Musica Ciao ragazzi e benvenuti su Spaghetti Magic Halloween è imminente e per questo abbiamo preparato per voi una settimana di storytelling a tema horror Un video al giorno, ogni giorno, fino alla notte più tenebrosa dell'anno E pensate, tutti effetti assolutamente originali e inventati apposta per voi da me e Claudio E tutti con una sorta di vena un po' bizarre Per chi non lo sapesse, la Bizarre Magic è una branca della magia che mette molta meno enfasi all'aspetto puramente tecnico Ma molto di più nell'aspetto narrativo, in chiave talvolta lugubre, talvolta esoterico e talvolta ancora horror Il fine è creare un'esperienza magica molto più ristretta, intima e teatrale rispetto al classico show di magia Quindi state pronti per una settimana di Bizarre Magic tranquilla e leggera No Ahahahahahahahhahahahahaha